Buongiorno! Oggi andiamo un po' più a sud, ci avviciniamo un po' all'Africa senza andarci, perché Cinzia non ci vuole andare. E' il punto più a sud dell'Europa. Non andiamo in Africa perché non ci si può imbarcare. E' arrivato il nostro panino con la marmellata. Che sfondo che abbiamo dietro. Le scimmiette sono qui, Monki. Guarda la batteria che è tutto pulito. Tutto pulito, tutto pulito. Ci siamo, andiamo a scaricare qua che è molto molto comodo, sperando che non ci sia gente. Abbiamo margine pre-checkout. Eccoci qua, siamo i terzi. Questo si è portato dietro la macchina e invece questo è pronto per la terza guerra mondiale. E cosa abbiamo qui? Los Pastores? E' un tuo parente? I miei avi. I tuoi avi, avi Cesari? E' tutto mio questo. E' tutta sta sterpaglia qua. Grazie. Ciao, nonno. Ciao, nonno. E si vede un'elica davanti a noi. Molto probabilmente c'è una pala. E' una pala? Eonica. E c'era un'altra. E' paleonica. Siamo arrivati sul tetto del monte. Quando c'è lento? Eccoci arrivati a Meta per accoglierci. Ci sono loro, i ragazzi della Lidl. Lidl. Tarifa. Ok, ragazzi. Ci sono richieste particolari? Mettiamoci qua, vicino al nostro amico tutto giallo e nero. Un altro babbole. Ok. Eccoci. 24 ore, 8 euro. Perfetto. Il ticket sia Bonara e l'entrata del veicolo. Sushi. Ma che margheritone. Sono più grandi della tua testa. Piccolino. Stiamo aspettando Cinzelacchi. Dove sono? No. Ok, è parcheggiato dietro lì. Questa è tutta la cicabile. E qui c'è il mare. Facciamo una passeggiata per vedere cosa c'è qui intorno. Eccoci. Tarifa e Meta dei Surfisti. Spiagioni enormi. Quello è il punto più a sud d'Europa. Ci andremo. Locadino. Ci andremo anche qui. E spiaggiono. Di certo questa non è la meta per sdraiarsi sull'asciugamano e prendere il sole. Però ti dà proprio un senso di ampiezza. Largo, largo, largo. Sushi. Ma noi li conosciamo quelli lì. Mi sembra proprio di sì. Ci sono Cinzelacchi. E siete andati alla playa? Eh? Che gente c'è la playa? Bellissimo. Voglio essere un mondo hippie. Bene, ci siamo sistemati anche oggi. Andiamo a fare un girato in paese. Adesso, adesso no. Direi proprio di no. Il faro di Tarifa. Siamo più a sud possibile. Scusa Cinzia. Di fronte a noi. Cosa che abbiamo? È l'isola di Tarifa. E qui è il punto più al sud d'Europa. Allora, arriviamo... Il mar Mediterraneo, a chi? È il mar Mediterraneo, a chi? Da Atlantic Ocean. Atlantic Ocean, a chi? Adesso andiamo. Siamo ragazzi, ci siamo. Nell'oceano Atlantico. Andiamo, procediamo. Andiamo. Andiamo. Un po' triste. Un po' dispiaciuto. No. Stiamo cercando di capire lì, in Africa, se questo è un super mega futuristico ponte. Adesso proviamo a raggiungere quella punta lì. Sai cinzata? E niente. Il quarto di Tarifa è staserato per noi. Facciamo il giro da chi fa. Scusa Cinzia, puoi smetterla di cicolare, per favore? Stai disturbando tutta Tarifa. Stiamo facendo il perimetro del porto. È inespugnabile. Non ci fanno entrare. Niente, dobbiamo desistere. È inespugnabile Cinzia. Mi voglio una cagnetta. Mi voglio una cagnetta. Mi voglio una cagnetta. Mi parto. È il pavè di Tarifa. Cinzia, c'è un albero baciato dal sole. Uno solo. È lui. Ho l'albero baciato dal sole. Cosa sei? E ora andiamo al Temente. Andiamo al Temente Tarifa. Un locale on the beach, direi. Sì. Siamo a Tarifa. Siamo a Tarifa. E c'è ancora il sole. Un cello. Quindi. Una maestra.